Un uomo unico per molti versi, un uomo da pensieri ben chiari, ben scolpiti, ma anche da una sensibilità umana straordinaria. Ha combattuto tutta la vita dalla parte delle persone deboli, nel sindacato, ma anche in politica, quando è diventato ministro del lavoro e anche nella democrazia cristiana, i suoi maestri sono stati Giulio Pastore, Carlo Donaccaten, uomini che avevano queste stesse caratteristiche. Io sono stato suo contendente nel congresso in cui venne eletto lui, lui mi batte e poi nel successivo congresso sostenne la mia candidatura, quindi eravamo molto legati, insomma, molto amici e per me questo, la notizia di stamattina del figlio, l'ingegner Davide, insomma, mi ha molto molto colpito, anche se purtroppo eravamo preparati perché negli ultimi giorni aveva subito un aggravamento della sua condizione e vi saluto.